Noi abbiamo ereditato un finanziamento dalla regione di 1 milione e 100 con cui abbiamo programmato l'intervento che riguarda la messa in connessione di diversi tratti di pista ciclabile che va da Pescara Sud fino ad arrivare a Città Sant'Angelo Nord, il che significa intervenire su quei tratti che oggi consentono in effetti a Montesilvano di raggiungere pienamente l'obiettivo della connessione di tutto il tratto della pista ciclabile di cui può beneficiare la costa. E questo è l'obiettivo che noi c'eravamo prefissi, abbiamo appaltato l'opera, abbiamo realizzato gli interventi, oggi riconsegniamo al Comune di Montesilvano l'assessore Cozzi che rappresenta il sindaco Maragno per dare loro la possibilità di avere una pista ciclabile a questo punto pienamente funzionante su cui evidentemente già i ciclisti e non solo, anche i vari amatori della corsa possono approfittare già da qualche tempo. Oggi lo riconsegniamo ufficialmente e siamo felici di questo risultato.